Ieri 6 giugno, presso l'Hotel Royal Continental di Napoli, la cerimonia di passaggio della campana e inizio anno sociale 2012-2013 dei club del distretto 108 Y.A. Lions, la Montiang Napoli, Napoli Palazzo Reale e Napoli 1799. Nel corso della charter, presiduta dal governatore in carica Michele Roperto e dal governatore in coming Gianfranco Sava, si è tenuta altresì la cerimonia di ingresso dei nuovi soci, che hanno giurato fedeltà al codice laionistico. Nel club La Montiang vi è stata la conferma alla presidenza di Gianna Mazzarella. Ascoltiamo ai nostri microfoni il governatore del distretto 108 Y.A. Lions, Michele Roperto. C'è una riunione di più club di Napoli, in cui hanno organizzato la visita del governatore. E' un po' il governatore che va per Sicaebbe per confrontarsi, per vedere come vanno le cose, eventualmente per cercare di dare un input per migliorare sempre la testimonianza laionistica. Stasera in particolare è più importante, se possiamo dire, la serata, perché c'è anche la celebrazione della visita del presidente Leo del distretto Leo e quindi ci sono anche i Leo. I Leo sono giovani che lavorano per il club, che lavorano per il leionismo e che noi aspettiamo che possono venire nei club più grandi proprio per continuare la loro testimonianza una volta che per motivi di età o di altro possono entrare.